La mia mamma, cioè non l'ho mai guardato, non lo sta bene. Ma di voi? Eh, andai da nollo? Ma di voi andò? Piano piano, dove vai? Villo? Quanto c'ha muovo? A maggio fa due anni, va a stare vedendo un locale e vuoi stare a comprare. E poi a quale? No, mi c'è caduto 5, 5 e 50, 2 ore per me. Cosa, a maggio quattro è aperto? Quando lo fai? A maggio dovrebbe essere aperto. Però forse è un po' di meno. Ma forse è un po' di meno. Ti ha pagato solo la roba che tu vuoi. Che non basta mangiare, solo i pezzi, le pezzi. Sono... Forse è 4 e lontano. No, c'è perciò, c'è 5 e 50. Io ormai toi ho pagato 6 e 50. 6 e 50 pagammo, ormai toi. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, l'espressiva però io non c'è, non c'è, non c'è. Allora, l'espressiva però io non c'è nessuno, almeno che non prendi la sala. La sala voleva, però la voleva dividere con un altro. Eh, però, in questi sono male salette. Sì, sì, però comunque le gioste sono tutte quante. Diciamo che a questa età si fanno le sale, non c'è, private. Non si fanno i partiti giotti. Sì, perché vuoi sapere, sicuramente, perché puoi trovare il bambino molto più grande. Perché è un bambino. Perché è un bambino. Però per l'età loro, quanto è buono, sì. Perché loro danno un gazebo, le già sono sempre in comune, però questi giotti ce li faccio letto, non fanno fine. No, poi essendo più piccoli e più raccolti, no, l'età loro va bene, l'età più grave non va bene. Non è che in settimana, già ne fatica. La viveria è più vicina. La viveria è più vicina. La, sì. Ma, capire, perché è una roba. No, è una sala grandissima. Che becchia. Che becchia. Eh, la svolta che sta sopra. Eh, è sua quella. Eh, non lo sapevo. Questa è una cosa per me. Ok, come si è andato in marcia? Ah, è tutto in un uomo. Ima, come si appiccio? Biccio?